A mio modo di vedere il OnePlus 3T è uno dei migliori smartphone ad oggi sul mercato grazie al suo rapporto qualità prezzo che è davvero eccezionale. OnePlus da poco ha deciso di mettere sul mercato una nuova versione che dal punto di vista delle caratteristiche non ha assolutamente nulla di diverso dalla versione chiamiamola standard, ma ha creato una nuova edizione illimitata dal punto di vista del colore, quindi va ad aggiungere un nuovo colore che si chiama Midnight Black, che è un nero opaco davvero molto bello. Quindi adesso andiamo a fare l'unboxing di questa edizione illimitata e a scoprire appunto questo Midnight Black. Ed eccoci qui con la confezione di vendita di questa edizione illimitata di questo Midnight Black, la nuova colorazione che parte già dalla scatola appunto tutta nera quindi lasciamo il bianco della confezione standard. A fianco abbiamo proprio la versione chiamiamola standard in gunmetal che abbiamo già recensito del nostro OnePlus 3T e anzi visto che le caratteristiche tecniche di questo Midnight Black sono assolutamente identiche vi consiglio, se non l'avete già fatto, di andare a vedere anche la recensione del nostro OnePlus 3T. Ma adesso direi subito di andare a vedere che cosa troviamo nella confezione di vendita e quindi andiamo ad aprirlo. Noi abbiamo già tolto la plastichina per comodità di ripresa ed ecco qui che troviamo il nostro OnePlus 3T Midnight Black appunto in questa colorazione nero opaco. Andiamo a vedere poi se troviamo delle novità all'interno della scatola classica fogliettino di OnePlus che tra l'altro ci dà anche 5 euro un codice buono di 5 euro da poter utilizzare sul loro sito ovviamente caricatore classico Type-C con il caricatore da muro l'adattatore da muro Dash Charger per poter ricaricare il nostro OnePlus 3T in pochissimi minuti o comunque nella metà del tempo della presa normale. All'interno della confezione troviamo anche una cover cover in silicone che non avevamo assolutamente nella versione standard troviamo anche degli adesivi andiamo un po' ad aprire esatto cover in silicone adesivi per insomma portare il marchetto OnePlus sempre con noi e il pirulicchio per togliere il cassettino delle sim. Ok allora andiamo ora a vedere questa versione nera davvero molto molto bella andiamo subito a metterlo in confronto con il Gunmetal nettamente a mio parere ma questo è assolutamente un giudizio personale vince questa colorazione nera io ho un po' un debole per la colorazione nera abbiamo anche in questo caso già applicata la pellicola per lo schermo che ci protegge il nostro schermo da notare che le nuove pellicole sembrano essere un po' più lunghe rispetto alla versione diciamo standard e quindi risultano già un pochettino staccate dal telefono ma queste sono proprio piccolezze dicevo versione Midnight Black da 128 GB di memoria interna abbiamo 6 GB di RAM il solito ampio display da 5.5 pollici è un Full HD è un Optic AMOLED come tecnologia 401 ppi abbiamo 6 GB di RAM vi dicevo 128 GB di memoria interna questa versione Midnight Black il processore è un quad core Crio diciamo da 2.35 GHz e da 1.6 GHz quindi 2.2 e ovviamente abbiamo la classica GPU Adreno 530 prestazioni ripeto secondo me è uno dei migliori smartphone assolutamente in circolazione ad oggi e quindi merita secondo me l'acquisto quanto costa questa questa versione allora la versione Midnight Black la si può trovare a 479 euro è davvero molto molto bello il ripeto è molto soggettivo se vi piace il nero ovviamente come me non potrete far altro che adorare questo telefono dal punto di vista delle prestazioni vi consiglio di andare a vedere subito la recensione che abbiamo fatto per il nostro OnePlus 3T e vi accorgerete appunto che è veramente uno dei migliori smartphone sul mercato 16 megapixel la fotocamera sul retro come anche la fotocamera anteriore da 16 megapixel tasto Home che ci permette di andare a gestire un po' le funzionalità e abbiamo anche il lettore di impronta digitale ovviamente sistema operativo Android Nougat quindi ultimissima versione di Android aggiornata anche in questo OnePlus 3T con Oxygen che è il sistema operativo proprietario diciamo basato su Android molto basato su Android perché quasi stock con qualche piccola modifica da parte di OnePlus ok direi che è proprio tutto quindi vi rimando alla recensione completa del nostro OnePlus 3T Standard Gun Metal per vedere un po' come gira questo OnePlus 3T un saluto da Francesco Colonna per Tecmaki.net ciao a tutti ciao a tutti